Annuncio di soppressione della S40 per Como, la S40 per Chiasso, Como, partenza alle ore 15.02, è stato soppresso. La causa è la mancanza del personale viaggante. I viaggiatori per Chiasso, Como, utilizzano il Regio Express 80 in direzione di Milano Centrale, partenza alle ore 15.19, dal binario 2. I viaggiatori per Palerna utilizzano la S10 in direzione di Como, partenza alle ore 15.32, dal binario 4, settori C e D.